video ripreso in 4k a 30 fotogrammi per secondo con le nuovo moto g5 plus versione maggiore del minore g5 ripreso in ultra hd quindi 4k a 30 fotogrammi per secondo qualità abbastanza buono e sensore fotografico da 12 megapixel andiamo a fare un ban veloce messa a fuoco istantanea anche di più rispetto al fratello minore torniamo anche in questo caso messa a fuoco istantanea finiamo con un controluce ritorniamo vista la fascia di mercato a cui è proposto circa 250 euro non possiamo che essere soddisfatti di questa camera e videocamera